Bello i trovati! Oggi ci troviamo a Torrammare, nel prestigioso residence di Parchitello, e ti presentiamo un'incantevole villa immersa nel verde, con servizio di portierato e vigilanza 24 ore su 24. Questa elegante proprietà si sviluppa su due livelli. Al piano terra, un ingresso ci accompagna in un luminoso salone, con uscita sul patio interno, dove poter godere di momenti di relax all'aria aperta. Una cucina abitabile con accesso al lato esterno, rende elegante la zona giorno. Due camere da letto, entrambe illuminate da ampie finestre, un bagno ed una comoda lavanderia. Al primo piano, la villa offre ulteriori comfort, con due camere da letto, entrambe con accesso sul terrazzo a livello, perfetto per godere di una vista panoramica e di momenti di tranquillità. Un grande bagno padronale e infine un pratico ripostiglio. Questa è un'opportunità unica per vivere con stile e comfort in uno dei residence più rinomati di Toro a Mare. Contattaci ora per organizzare una visita e scoprire tutte le caratteristiche di questa esclusiva proprietà. Ciao, alla prossima!